La miglior stagione di Pippo Pellacani a Pescara fino a questo momento? Sì, ho trovato un po' di continuità, però viene prima la squadra, stiamo facendo bene, ci stiamo allenando bene, ogni allenamento andiamo forte e poi si vede anche la domenica, penso, quindi questo è importante. Ci spieghi un po' questo tuo segreto di andare in pressione altissima per recuperare il pallone, a volte anche dentro la metà campo se non la tre quarti avversaria? È quello che chiede l'allenatore, quindi cerco di farlo, poi mi piace e quindi meglio di così è dura. Che è stato finora l'avversario che ti ha creato un po' più problemi? Ma a livello di giocatore? Ma a livello di problemi fastidio perché ad esempio il Rimini ci tenevano tanto basso la mezzale, infatti dopo abbiamo cambiato nel secondo tempo, siamo andati meglio e anche quello della Torres, adesso non mi viene, Varela, quello che era uno scorso la Reggiana per la velocità, che quando difendi uno contro uno e c'è il campo dietro devi stare sempre un attimo attento. Chi è un po' un giocatore a cui si è ispirato Pippo Pellagani per diventare così aggressivo? No, no, io da romanista mi piaceva guardare la Roma, quindi vedevo più che altro l'atteggiamento di De Rossi. Lui non era un centrale? No, però neanch'io, infatti nasco play e poi divento centrale. Non è che puoi mettere pressione a squizzata? Ma che, no, no, sto bene lì dietro, infatti non lasciamo lì squizza e sta facendo… Non ti ha provato il misto? Sì, mi ha provato nell'amichevole 20 minuti perché appunto è successo purtroppo questo fatto di Lorenzo e quindi se c'era bisogno io avevo dato ovviamente la mia disponibilità. A proposito di Lonardi, a te è successo due anni fa? Che cosa hai detto subito a caldo a Lorenzo? Gli ho detto di operarsi il prima possibile, che prima inizia e prima finisce. È un periodo lungo, devi essere secondo me forte mentalmente, devi lavorare bene e dopo devi avere pazienza, secondo me, quello è il segreto e non forzare i tempi. La lascio per ultima come domanda ma immagino che te l'aspetti perché sei in scadenza di contratto, avrai sicuramente tante richieste ma sappiamo che a Pescara stai molto bene. Sì, sì, sto bene a Pescara, quindi adesso vediamo, stiamo parlando, non c'è diciamo fretta dai. Però se avete già iniziato a parlare questo ce lo puoi confermare? Due parole, sì, si sono fatte.